Avvertenza! Si rende noto agli aborigeni e agli abitanti delle isole Torres Strait che questo video potrebbe contenere immagini e voci di defunti. Prendersi cura dei propri piedi è importante, specialmente se sei diabetico. Infatti, il diabete può causare problemi ai piedi. Può influire negativamente sui nervi o la circolazione dei piedi, o provocare infezioni e difficoltà di guarigione dalle ferite. Inoltre, potrebbe aumentare il rischio di ulcere e amputazioni. Puoi fare molto per proteggere i tuoi piedi. Lavali e asciugali ogni giorno, passando l'asciugamano anche tra le dita. Puoi prevenire la secchezza applicando una crema idratante come il sorbolene. e portando i calzini. Lima o taglia le unghie con cautela ogni settimana. La lima è il metodo più sicuro. Usa il tagliaunghie per accorciarle un po'. Taglia l'unghia seguendo la forma del dito e lima bene gli angoli. Se non riesci a vedere o a raggiungere i tuoi piedi, puoi farti tagliare le unghie dal podologo. Controllati i piedi ogni giorno per rilevare qualsiasi alterazione o problema. Fai attenzione a qualsiasi cambiamento, anche rispetto al giorno precedente, e rivolgiti subito al medico o al podologo in caso di problemi. Ispeziona con cura anche le piante dei piedi e i talloni e guarda nelle fessure in mezzo alle dita. Usa uno specchio o chiedi a qualcuno di ispezionarli se non riesci a vederli bene. Se noti ferite tra le dita dei piedi, calli, duroni, alterazioni della forma del piede, pelle screpolata o alterazioni del colore delle unghie, consulta il medico o il podologo entro sette giorni. Ulcere al piede, gonfiore insolito, arrossamenti, vesciche, unghie incarnite e contusioni o tagli sono problemi urgenti. Occorre richiedere assistenza medica il più presto possibile. Il tipo di calzature scelto è importante per proteggere i propri piedi. Usa calzature anche in casa. Se vai in spiaggia, scegli calzature adatte e non camminare scalzo. Per fare spese, scegli scarpe comode con un buon supporto. Porta sempre le calzature adatte per fare passeggiate o determinati tipi di attività fisica. Al lavoro o in giardino, porta sempre scarpe che coprono tutto il piede, in modo da proteggerlo. Quando fa freddo, usa delle pantofole per tenere caldi i piedi, evitando il contatto diretto con radiatori e borse dell'acqua calda. Controlla le scarpe prima di indossarle. Tastale dall'interno. Capovolgile. E scuotile. Vai a comprare le scarpe di pomeriggio, quando i piedi sono più grandi. Chiedi assistenza professionale per le misure. Le scarpe nuove dovrebbero risultare comode da subito. La salute dei piedi dipende molto dalla circolazione sanguigna. Il fumo riduce la circolazione periferica e le ferite guariscono più lentamente. Per smettere di fumare, puoi rivolgerti a Quitline, al 13 78 48, o al tuo medico. Ricordati di far visitare i piedi da un podologo specializzato in diabete almeno ogni 12 mesi. Quando vai dal podologo, ricordati di portare con te i risultati degli esami del sangue, inclusi l'HbA1c trimestrale, la vitamina D per la salute delle ossa, il colesterolo e l'EGFR renale. Il podologo specializzato in diabete è in grado di prevenire, rilevare, diagnosticare e curare possibili problemi ai piedi. Potrebbe anche consigliare a te o al tuo medico come gestire questi disturbi. Durante il controllo, il podologo analizzerà la cute, le unghie, la forma e le funzioni dei tuoi piedi e le calzature, oltre alla funzionalità nervosa e al flusso sanguigno. Ricorda che è importante prendersi cura dei propri piedi per tenere sotto controllo il diabete e mantenersi in salute. Se hai il diabete e possiedi una tessera Medicare, puoi accedere al Servizio Nazionale per il Diabete o NDSS. La tessera NDSS ti permette di acquistare prodotti per diabetici a prezzi ridotti in tutta l'Australia. L'adesione è semplice e gratuita. Chiedi al tuo medico o al tuo specialista di fiducia di aiutarti o visita il sito www.ndss.com.au Per parlare con un infermiere specializzato, un dietista o un consulente di Diabetes Victoria, chiama il 1300 136 588. Se hai bisogno di un interprete, chiama il 1300 801 164. Gli aborigeni e gli abitanti delle isole Torres Strait possono chiamare 1300 Curie al 1300 566 743. Chiamate gratuite da Victoria. Siamo qui per aiutarti!